No, no, no Io mi sai che giardà E' bella, ha preso Spacchino! Spacchino! Ma sempre! Spacchino! C2! Wow! Dov'è? Ma perché? Si, da capire che gli fa così! Batella! No! No! Sì! No, no, no! Marini! Mariani! Mariani! Ho detto Marini! L'uomo ha fatto piacere, aveva messo un vendita alla macchina! Focus! C'era le marce lunghe, che dio caro! C'era le marce lunghe, l'ha fatta con una marcia in più! Abbastanza forte! Sì! Magari! Ah, la Citroen! La Citroen! Sì! Esatto sì! 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 È bestia! Sì! Sì! Ho detto che lui dà sempre spettacolo! Sì! Dato 5! Ma schi no! Sì! È così! C'è! c'era 5! Cos'è? 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 Cos'è un ragazzo? Fabio, brucia! Sul nipote è tre volte meglio di lui Il diesel è? Si, è il 30D Ma dai! Ma come si fa?